ciao ragazzi sono riccardo bentornati nel mio canale youtube oggi voglio farvi vedere un altro incisore laser questa è della longer e già di questa azienda vi ho fatto conoscere un po di tempo fa un bell'incisore da 10 watt vi lascerò il link giù nel primo commento e nella descrizione questo a 20 watt di potenza un modulo potente che ci permette di eseguire tagli incisioni eccetera e oggi faremo un progetto con un incisione devo farlo per un bimbo che sta arrivando piccolo simone che nascerà a breve e quindi sto realizzando questa idea voglio farla insieme a voi ma la caratteristica di questo incisore laser nonostante la potenza nonostante abbia una struttura di ultima generazione quindi semplice minimale elegante con pochi capi in vista è il fatto che costi effettivamente poco infatti costa 799 euro che non sono spiccioli ma rispetto ai prezzi ai quali siamo abituati 799 dollari comunque con un codice di sconto già presente lo sito del venditore e spero di ottenere un altro io sicuramente è un prezzo interessante perché è utile sia per chi vuole utilizzarlo per lavoro che per chi per un utilizzo hobbistico vuole un prodotto che sia prestazionale che non abbia tanti piccoli dettagli come possano essere l'autofocus automatico puntatore laser croce laterale come potrebbe essere un display touch eccetera questo fa abbassare il prezzo di tanto mantenendo però alta la qualità piccoli dettagli che non mi piacciono sono presenti ma sono bazzecole comunque adesso facciamo questo taglio vediamo come si comporta 400 mm al minuto con 70 per cento di potenza e poi guarderemo sia la macchina del sito del venditore quindi cambiano inquadratura e vediamo questa semplice realizzazione per il piccolo simone iniziamo e allora innanzitutto voglio fare vedere che questa macchina immunità di tasto di emergenza quindi un fungo di emergenza posso sulla parte destra io l'ho spento attualmente sposto leggermente il modulo è ovviamente all'accensione andrà automaticamente alla home abbiamo diversi sistemi di sicurezza che più tardi vi farò vedere ma adesso apriamo light barn vi faccio vedere anche le impostazioni quindi da questa parte abbiamo le impostazioni per quanto riguarda le linee di taglio che le linee di contorno e adesso accendiamolo anche se nel contorno effettivamente sono impostate male perché sono impostate a 6.000 mm minuti al minuto 20 per cento di potenza così non va bene lo mettiamo a 3000 con il 50 per cento di potenza senza air assist invece per quanto riguarda le linee per il taglio abbiamo l'era assist automatico un solo passaggio 400 mm minuto 70 per cento di potenza allora l'accendo vedrete che va in home automaticamente si muove lentamente e scusate il rumore di ventole metto la mano davanti al microfono sperando che questo attutisca leggermente comunque sta andando nella home e mentre l'incisore sta lavorando eventualmente mettiamo un po di musica perché altrimenti con questo rumore non sentireste quello che dico quindi facciamo il frame avevo già posizionato correttamente tutte cose rientra nello spazio ok quindi adesso diamo il via facciamo pure un'anteprima così vi dico quanto tempo richiede questo lavoro 10 minuti e 35 non è un lavoro complesso quindi avvio il tutto nel frattempo accendo i vari aspiratori le ventole apro la finestra e poi nel frattempo godetevi il lavoro quindi avviamo il tutto avvicino l'inquadratura ok così dovreste riuscire a vedere per bene tutto quello che fa ok sono Grazie a tutti. E allora, quindi come avete visto, è riuscito a tagliare molto facilmente con 400 mm al minuto, 70% di potenza. E voglio farvi vedere anche quanto sia preciso. Quindi qua, per esempio, guardate questo taglio sottilissimo come l'ha fatto benissimo. La stessa cosa qua all'interno. Abbiamo questo spazio così sottile, quindi una lamella da mezzo millimetro forse. E anche qua dove c'è la bandiera, davvero uno spazio ridottissimo. Ora, essendo tutto semplicemente appoggiato, mi occuperò della colorazione, quindi utilizzerò bombolette spray, eccetera. Ma vi farò vedere il lavoro direttamente finito dopo averlo anche incollato. E ora, immancabile, come sempre, la prova su questo pezzo da 16 mm e mezzo, proveniente da un bancale. Non so quanti passaggi siano necessari e quindi, come sempre, farò una prova. Dando delle impostazioni con 200 mm al minuto, 90% di potenza, 10 passaggi con Airassist e staccherò quando capiremo che il pezzo sarà caduto giù. Quindi preparo il file e iniziamo. E allora, vi faccio vedere l'unica cosa che non mi piace di questo incisore laser, cioè la regolazione tramite questa rotellina, che è un po' piccola da raggiungere. Non è impossibile, però se fosse stata un pochettino più lunga, sicuramente sarebbe stato meglio. Comunque va svitata, dopodiché si solleva il modulo, scorre quindi in un binario, si mette il pezzo che vogliamo incidere oppure tagliare qua sotto e per mettere a fuoco dobbiamo abbassare questa parte che è magnetica. Ho notato un particolare. Abbassandola, se non si fa attenzione, si fa scendere velocemente, tende a piegarsi in questo modo. Quindi, una cosa che va fatta con attenzione. Si richiude. La procedura di per sé è facile, però ripeto, avrei preferito se fosse stato un pochettino più lungo. Lo sollevo. Nel frattempo, i più attenti si saranno accorti che sono stati in grado di ferirmi, dandovi una coltellata. Va bene, dai. Quindi facciamo di nuovo il frame. Siamo lì. Va bene, lo spostiamo leggermente. Ok, avviamo il tutto. 10 passaggi, 200 mm al minuto, 90% di potenza. Primo passaggio. Secondo passaggio. Al terzo passaggio già si vede un po' di bagliore che appane dalla parte di sotto. Quarto passaggio. Quinto passaggio. Ok, si è staccato. Quinto passaggio. Interrompiamo. Si è staccato il pezzo e lo troviamo qua giù. Un poco carbonizzato, però non mi sporca il dito. Quindi si strofinando forte sì. Però comunque, come vi dico, ad ogni prova così estrema, questi tagli li faccio solo per farvi vedere quello che riescono a fare. Ma non si lavora. È molto improbabile che si facciano dei lavori con questi spessori. Ora passiamo di nuovo alla normalità. Facciamo un'incisione di un'immagine. Sto incidendo il mio logo a 18.000 mm al minuto, 80% di potenza. E poi lo ritaglierò con 200 mm al minuto, 90% di potenza. Un solo passaggio con Erassist. Considerate che MDF è da 5 mm, quindi più difficile da tagliare rispetto al compensato normale. Quindi avviamo il tutto. Ovviamente ci sarà il solito rumore. Ok, quindi metto di nuovo la mano davanti al microfono. Avviamo. Ok. Facciamo uno zoom, così riuscite a vedere un po' meglio. Ok, già si vede il logo che si sta incidendo senza nessun problema. Sull MDF non è difficile incidere, però la tonalità e il risultato che si ottengono sono diversi dal multistrato. In realtà, quello che risulta difficile con l'MDF è il taglio, perché l'MDF è un concentrato di polvere di legno e colla. Come sapete, la colla rende i tagli più difficili rispetto al legno pulito. Ha praticamente finito il riempimento. Adesso farà il taglio con l'attivazione automatica dell'Erassist e poi voglio fare pure un'altra prova. Dopo questo taglio, quindi semplicemente il contorno, voglio provare a mandare in home la macchina e poi provare a fare il contorno di quello che abbiamo appena inciso. Per vedere quanto sia precisa tra il ritorno alla home, quindi alla fine del lavoro, e la continuazione di un lavoro. Perché dovrebbe andare esattamente a coprire le parti che ho già inciso, anzi a contornarle. Però come vedete, già sta tagliando. Quindi l'MDF, che è un materiale un po' particolare e difficile da tagliare. Con un passaggio a 200 mm al minuto, con il 90% di potenza, lo sta tagliando senza nessun problema. Non ho fatto le prove con altre potenze, però riesce tranquillamente in questo modo. In teoria, anche aumentando un po' la potenza, aumentando un po' la velocità, dovrebbe riuscirti senza problemi. Ok, adesso andrà alla home, quindi riduciamo un pochettino la zoomata. Ok, un solo passaggio. Adesso diamo play e facciamo il contorno di quello che ha inciso. Quindi in questo caso, solo le linee. E già guardando in questo modo, vedo che sta andando esattamente dove deve andare. Quindi a contornare la scritta e tutto quello che abbiamo fatto. Va bene, lo vediamo al lavoro finito. Acceleriamo l'inquadratura e godiamoci il lavoro alla fine. Lavoro è eseguito perfettamente, ma voglio aggiungere anche un piccolo cerchietto, per poi poter fare una sorta di portachiavi, quindi un forellino sulla parte superiore. Va bene, adesso lavoro completato. Allora, nello staccare il pezzo mi sono accorto che da una parte ha tagliato benissimo, dall'altra parte invece no, è rimasto un po' di materiale. Va bene, quindi questione di impostazioni. Eventualmente riducete leggermente. Questo cerchietto, invece questo pallino, lo ha tagliato quasi del tutto. Quindi basta spingere. Staccato, va bene. Dai, come risultato mi piace. Peccato per queste piccole parti che non è riuscito a staccare, ma l'MDF è un po' traditore. Comunque come tipo di taglio va benissimo. Eventualmente due passaggi con una velocità un pochettino più alta e saremmo riusciti a fare un lavoro sicuramente più pulito. Però così già mi piace tantissimo. E te pareva, io guardando non me ne sono accorto, colpo d'occhio, però effettivamente manca un pezzo di M. Quindi nel file non l'ho inserito e quindi ho un logo un po' monco. Manca una gambetta, va bene. Però per il resto, come vedete, ha centrato perfettamente tutta l'incisione. Quindi è andato benissimo e come incisore è molto preciso. Ok, quindi anche questo è seguito perfettamente. Taglio completato e qua, come vedete, i dettagli sono molto molto più distinguibili. Quello di prima aveva delle impostazioni che non mi piacevano. La scala di grigio va bene, però in alcuni punti, come vedete, dove doveva essere più nero, in realtà non l'ha inciso. Quindi devo capire bene queste impostazioni. Qua era venuto estremamente chiaro. Questo invece va bene, però c'è qualcosa sulle impostazioni che devo studiare per bene. Probabilmente ho sbagliato io, però è giusto che, essendo sempre sincero e leale nelle recensioni, vi faccio notare che c'è questo dettaglio e questa parte qua sopra doveva essere più scura e invece non lo è. Però per quanto riguarda i dettagli, sono stati incisi bene e la scala di grigio va bene. Quindi le sfumature ci sono, tranne in questo punto qua in alto. E adesso è arrivato il momento di dare un'occhiata alla struttura. Quindi abbiamo sulla parte frontale il controller con i vari ingressi, sia per l'alimentazione che per il collegamento al computer. Questo può funzionare anche con il wifi oppure direttamente con la scheda microSD. Questa porta sinceramente non so a cosa serva. Da questa parte abbiamo la connessione per quanto riguarda l'air assist. Questo è il compressorino. E qua abbiamo pure questa parte. All'interno ci sarà qualche fusibile, qualche elettrovalvola o qualcosa che lo attiva. Da questa parte abbiamo le varie connessioni. Non sono proprio il massimo, messe così in vista, però non vanno a dare fastidio. E qua invece abbiamo il sensore di fine corsa. Come vedete abbiamo due alloggiamenti, quindi può essere abitato sia qua che qua. E quindi questo telaio sicuramente sarà in comune anche con i moduli da 10 watt, eccetera. Comunque, per quanto riguarda il modulo, abbiamo visto che la connessione è semplicissima. Si innesta direttamente qua in questa slitta. Il collegamento per quanto riguarda il cablaggio va da qua. E qua abbiamo questo tubicino, un gomma morbido. Effettivamente un tubicino non è di altissima qualità, però va bene. Svolge benissimo la sua funzione. E qua abbiamo questo sistema per mantenere tutti i cavi e anche il tubicino bene assestati e in ordine. Qua abbiamo un altro sensore di fine corsa, un po' di cavi in mezzo ai piedi, però ripeto, non danno fastidio. E il telaio, come vedete, è elegante. Alla fine è ordinato, abbiamo tutto ben nascosto, quindi le ruote ci sono, delle ruote eccentriche. Si regolano dalla parte bassa, però non sono in vista, sono coperte. Il montaggio è relativamente semplice. Comunque vi lascio il link giù per vedere il video del produttore. E per quanto riguarda le dimensioni, abbiamo un'area di lavoro da 450 mm x 460 mm. Questi sono i lavori che non avete visto fare. Questo ancora va colorato. È un lavoro che va colorato poi a mano, ma per quanto riguarda lo sfondo, le onde eccetera, l'ho fatto con le bombolette spray. E adesso diamo un'occhiata al sito del venditore. Ma devo farvi vedere anche il pezzo completo, come vi avevo promesso. Questo è il pezzo finito, quindi tutto colorato, con i vari pezzi attaccati. Una volta incollato, questo è il risultato finale, che a me piace tantissimo. Ovviamente queste riprese sono state fatte alla fine del video, ma le sto inserendo a metà. E allora diamo un'occhiata quindi al sito del venditore. Come vedete, 779 dollari scontato, prezzo 7,99, cioè un codice di sconto di 20 dollari, ma spero di ottenerne un altro. Allora, andiamo più giù, guardiamo qualche caratteristica tecnica. Come vediamo, 20-24 watt, modello B1, quindi Longer B1. Nelle specifiche tecniche possiamo vedere qualche altra caratteristica, quindi per esempio l'area di lavoro, 450 x 440 mm. Un assorbimento complessivo di 120 watt. Può lavorare con laser GRBL, che è gratuito, oppure con lightburn a pagamento. Lavora sia su Windows, su Mac oppure Linux. Ma guardiamo le caratteristiche tecniche che ci interessano veramente. Quindi la velocità massima, 36.000 mm al minuto, anche se è un po' estremo, però è una macchina che riesce ad arrivarci. Il punto di incisione laser, quindi uno spot piccolissimo, 0,06 x 0,06, con una precisione del movimento di 0,01 mm. Una scheda madre a 32 bit. E abbiamo anche l'air assist automatico. Il modulo laser è composto da 4 diodi a cascata, che formano quindi 24 watt al massimo, però diciamo un po' si perdono, quindi hanno una potenza dichiarata che va da 20 a 24 watt. E come vi ho fatto vedere poco fa, può lavorare quindi anche tramite la scheda, col collegamento con l'USB e poi tramite wifi, sia tramite computer oppure tramite l'applicazione. E poi altre informazioni che vi ho già detto durante l'utilizzo, tranne il discorso riguardante la protezione. Perché questo incisione laser ha diverse protezioni che riguardano per esempio la presenza di fuoco, oppure un potenziale movimento della macchina involontario, quindi un urto. Oppure se dovesse cadere, riconoscerebbe tramite un sensore interno che si sta capovolgendo, interrompendo quindi l'incisione. Cercherò di lasciarvi i migliori link che trovo online, o comunque cercherò di fare di tutto per farmi dare un codice di sconto, per farvi risparmiare il più possibile. E ora guardiamo il nostro modulo. All'interno abbiamo l'ugello per quanto riguarda la fuoriuscita dell'aria e poi dalla parte interna la lente da cui viene proiettato il laser. Abbiamo diverse lamelle per la dissipazione del calore e sulla parte superiore, come avete visto poco fa, abbiamo questa generosa ventola che effettivamente si fa sentire, però svolge bene il suo lavoro. Nella parte frontale c'è pure questo vetrino, come avete visto durante la lavorazione, che ci permette di osservare il laser mentre lavora. Anche se non so se effettivamente riesco a filtrarle, quindi utilizzate sempre gli occhialini e qui lasciano un link per poterli comprare. Detto questo, spero che questo incisore vi sia piaciuto. Sicuramente ce ne sono di più evoluti, ma il prezzo è con quelli più evoluti, quindi con più chicche e molto più alto. In questo caso la convenienza è sul prezzo e sulla qualità di quello che riusciamo ad ottenere. Dei buoni tagli, delle buone incisioni, soprattutto fatte velocemente, perché 20 watt con un punto così piccolo, 0,6 per 0,6, ci permettono di lavorare velocemente e di avere molta precisione. Vi lascerò giù il link nel primo commento nella descrizione, spero di associarlo anche ad un codice di sconto. Non mi rimane quindi che invitarvi ad iscrivervi al mio canale, mettete il mio piace cliccando qua giù, cliccate anche sulla campanella dopo essere vi iscritti. Ci vediamo tutti nei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!